Salve a tutti. Conclusa la fase di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e quindi delle emissioni in ruolo, attingendo dalle graduatorie dei concorsi ordinario e straordinario, dalle graduatorie ad esaurimento ed eccezionalmente per quest'anno scolastico anche dalla prima fascia del GPS, è arrivato il momento del conferimento degli incarichi di supplenza annuale e gli vari uffici scolastici territoriali hanno già concluso la fase di conferimento degli incarichi dalle graduatorie ad esaurimento e si è passati al conferimento degli stessi tramite le GPS. Con una nota dello scorso 27 settembre il Ministero dell'Istruzione ha quindi dato indicazioni per quanto riguarda l'invio delle cosiddette MAD, le messe a disposizione. Il Ministero ha infatti chiarito che eccezionalmente per quest'anno scolastico potranno inviare la MAD anche i docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto. Il Ministero tuttavia ha precisato che si potrà accedere alle domande di messa a disposizione solo dopo l'esaurimento delle operazioni di conferimento degli incarichi dalle GPS e dopo l'esaurimento delle graduatorie d'istituto anche relativamente alle scuole vicinioni. Si tratta quella della messa a disposizione di un'opportunità di lavoro naturalmente per chi non è inserito in alcuna graduatoria e quindi non ha fatto in tempo perché per esempio ha conseguito successivamente alla scadenza il titolo di studio di essere stato inserito nelle graduatorie provinciale d'istituto. Quindi un'ottima occasione per poter entrare nel mondo della scuola ma con la nota ministeriale si chiarisce che anche i docenti già inseriti nelle GPS o nelle graduatorie d'istituto potranno presentare la MAD anche in altra provincia quindi aumentando le chance di lavoro non solo tramite le graduatorie in cui sono inseriti ma anche tramite le MAD in altra provincia. Sebbene le disposizioni non prevedono nulla in proposito le varie scuole dove spesso arrivano anche diverse numerose domande di messa a disposizione stanno procedendo a una sorta di graduazione delle stesse, a compilazione di sorta di graduatorie interne valutando i titoli dichiarati agli aspiranti nella MAD. Per uniformità e per coerenza utilizzando quindi un criterio oggettivo per la valutazione di questi titoli dovrebbe farsi riferimento alle tabelle di valutazione per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali delle supplenze di seconda fascia. Bene, vi invito a seguire per gli ulteriori aggiornamenti il nostro sito e i nostri canali social. Arrivederci a tutti! Grazie 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 a tutti!